si tratta soltanto di andare alla ricerca degli straordinari tesori si tratta di costruire un sistema di tutela e valorizzazione si tratta di costruire una rete di produzione da parte dei visitatori dei turisti degli appassionati e soprattutto di favorire la ricerca la ricerca la ricerca che significa portare università a trarre intelligenza e competenze esplorare con l'idea di ricostruire i contesti storici e archeologici con una particolare ripeto una particolare predirezione per la tutela di ciò che si viene a scoprire in italia spesso è successo di aver fatto grandi scoperte o anche scoperte meno risonanti e di essere stati costretti a ricoprire terra le scoperte per tutelarne naturalmente ecco si tratta di procedere gradualmente con una maffatura sempre più profonda delle enormi risorse archeologiche di cui l'italia dispone e di creare un tessuto di protezione di e di considerare un'inergia di superiore in gruosa in gruosa in sfora e dev'è visita la ricerca che si tratta di utile di oggi fa buona parte dei ricerca in 소면 che era la ricerca che si tratta di risa di